ciao fragoline ciao ragazze e ciao ragazzi nuovo video questa volta facciamo prodotti e finiti di carlita shop perché tutti questi prodotti che vi faccio vedere sono l'ho presi su carlita shop che chi non conosce carlita non credo proprio comunque mamma mia facciamo così comunque diciamo che l'ho presi da lei e vi faccio vedere cosa ho utilizzato come mi sono trovata detto questo seguitemi su instagram mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi anche il mio canale e giustamente attivate anche la campanellina così sapete i video che usciranno e un commentino qua sotto detto questo vi faccio vedere i prodotti che sono abbastanza tanti credo che ce ne ho altri sparsi e altri ancora da utilizzare non mi ricordo comunque vi faccio vedere questi poi in un prossimo video vi farò vedere gli altri prodotti finiti di carlita shop andiamo a caso questo che mi sono trovata bene se non sbaglio è l'anguria adesso non mi ricordo perché un odore un po strano da tanto che ce li ho da parte comunque questo l'anguria mi sono trovata bene l'unica pecca di questo sito è che i prodotti costano troppo che sugli altri prodotti tipo bio shop ho visto che vendono queste marche e queste cose che vende carlita shop per cui se volete risparmiare volete comprare questi prodotti a metà prezzo che dite no questa troppo 18 euro solo per questo andate su bio shop la roba costa meno tutto naturale tutto bio e non avete problemi perché molte ragazze mi hanno chiesto ma non c'è un altro sito oltre al carlita shop che un po così così allora visto vi dico già adesso in questo video andate su bio shop non vi lascio link non vi lascio niente perché non è una sponsorizzazione tantomeno io non sto sponsorizzando per cui non vi lascio niente scrivete solo su internet bio shop lo trovate e andate su quel sito lì che questi prodotti li trovate io infatti ho fatto così e non sto diciamo per il momento non sto acquistando da carlita shop a parte che ho avuto un bel po di problemi e sto avendo ancora altri problemi su quel sito non so perché ma o sono l'unica che non va bene che acquisto da quel sito oppure non lo so però mi sono trovata così così sempre quello anche se l'acquisto però ci sono certi prodotti che mi piacciono ci sono certi prodotti che mi sono trovata malissimo quello comunque questo è buono se all anguria è buonissimo ve lo consiglio 18 euro è già un po troppo perché sono 200 ml è buonissimo ma non ve lo consiglio se costa 18 euro andate a vedere altri prezzi se costa meno all'anguria buonissimo questo ve lo straconsiglio dell'anacomi rainbow mouse questo qua adesso non ricordo se era l'anguria però ce n'è una l'anguria poi il mascara di nabla mi sto trovando bene e lo acquisterò ancora ma questa volta proverò a vedere sul sito di bio shop o almeno sul sito di nabla per vedere se se c'è il mascara perché acquistando da carlita shop non avendo diciamo promozioni e tanti sconti quando uno acquista e spende tanto da lei diciamo che preferisco allora prendere su altri siti per cui questa la bustina del mascara io c'ho ancora il mascara da finire però ve lo farò vedere il mascara e le film now e mi sto trovando bene ed è ottimo come mascara per cui ve lo consiglio il mascara di nabla poi questo qua dottor ganic questo è il carbone della faccia mask questo di 125 ml mi sono trovata molto bene l'ho applicata sulla faccia a me piace perché a parte che non è testato sugli animali e poi mi piace come prodotto perché quando lo metti su lì sei tutta diciamo colorata la faccia colorata ed è ottimo ed è buono come prodotto per cui questo ve lo consiglio di lo comprerò ancora però vediamo se c'è un altro sito poi questo qui olio al mango questo è per la cellulite mi sembra sì per la cellulite allora sinceramente a me non mi ha fatto niente questo prodotto è buono perché sta di mango è buono perché sta di mango l'unica cosa che non mi ha fatto diciamo niente è di 150 ml potrei consigliarvelo ma non lo so non è un prodotto almeno su di me non ha tanto funzionato per cui io lo prendo solo anzi è troppo secondo me è troppo olioso per cui è molto secondo me questo qua invece adesso vediamo allora sempre dell'anacomi questo per il cuoio cappelluto per la caduta dei capelli anche questo non mi ha fatto niente 50 ml non lo so ha un odore un po' che non mi piace in più quando lo mettevi sui capelli non ha fatto chissà cosa perché i capelli mi cadevano lo stesso per cui diciamo che non è un prodotto tanto buono secondo me per cui io lo boccio perché non mi ha convinto non mi è piaciuto tanto per cui diciamo che non mi ispira non lo comprerei poi questo qua cristalli naturali capelli castani alchemilla anche questo non è che mi ha convinto tanto a parte il prezzo troppo però diciamo che questo è di 50 ml l'ho usato ma non mi ispira più di tanto non lo ricomprerei per cui dico solo questo poi passiamo a questo che invece questo mi sono trovata bene e lo vorrei ricomprare l'ho comprato l'altra volta che era questo e mi sono trovata bene per cui già il secondo che compro no il quarto se non sbaglio sempre della makomi maschera shake che ovviamente da parte ti compri quel coso che shaker a quel bicchierino metti dentro questa polvere qua che è di 50 grammi allora diciamo che già questa 50 grammi è troppa per cui per la faccia è un po' troppa se è da 25 grammi è perfetta perché la metti su la finisci ed è comoda l'unica cosa che non mi piace è la sabbia di Bora Bora questo non mi è piaciuto tanto come odore eccetera invece l'altro mi è piaciuto di più per cui vi consiglio l'altro però è anche ottimo come prodotto secondo me anche poi è più bello perché fai questa maschera te la metti su e sinceramente io mi sono divertita per cui era bello anche come prodotto poi parliamo dei burro cacao alchemilla uno alla banana e uno al melone con questi mi sono trovata bene e vorrei comprarli di nuovo infatti ne ho altri tre da consumare che uno è panna e fregola poi c'è mela verde e l'altro che non mi ricordo che cos'è questo banana e melone sono i miei preferiti e sono buonissimi l'odore si sente e come ti fa impazzire anche quando li metti su lo svuotati proprio tutti sono buonissimi li ricomprerei ancora perché costano anche di meno non so non mi ricordo però quanto e mi sono trovata bene sono questi due questi ve li consiglio questi burro cacao ci sono di tutti i gusti e sono ottimi per cui sinceramente preferirei questi 100 volte meglio che quelli della labello lì che ho comprato che non lo so non hanno tanto da invece questi qua mi piacciono di più e poi ovviamente non sono testati sugli animali per cui la cosa bella è questa per cui passiamo ai campioncini perché poi gli altri non mi ricordo sono finiti la scatola era enorme comunque passiamo ai campioncini allora vi dico la mia questo agrumi di sicilio e latte corpo non mi ha colpito tanto per cui non lo compro questo non mi ha colpito tanto vado un po più veloce non voglio che questo video dura tanto questo il caffè non era male però forse il caffè era troppo pesante non lo so non mi ricordo tanto diciamo bene però non era male questo potrei ricomprarlo anche se il caffè a me non è che mi piace tanto almeno che è leggero ma questo non era leggero e diciamo che ok scusate ma avevo il telefono pieno memoria piena per cui ho dovuto si è spento il video comunque andiamo avanti con i campioncini rimasti di Carlita Shop così concludiamo questo video sono un po' conciata male perché ho tirato via anche il rossetto perché non ce la faccio più allora questo è eterea oro corpo questo neanche questo mi ha fatto impazzire non ha diciamo risultato niente per cui non lo so non mi ispira tanto come prodotto questo è quello invece questo qua è proprio bocciato perché era questo no l'altro era bocciato scusate mi sto confondendo questo qui è buono come prodotto l'unica cosa è che brucia pizzica e a me non mi piace questa cosa qua che questo prodotto pizzica per cui non lo ricompro e non mi convince tanto per cui non lo so pizzica quando lo metti su le gambe ok che poi all'inizio avevo sbagliato a metterlo però non è una cosa che lo ricomprerei questo qua non mi ispira tanto per cui non lo compro questo è anti età crema viso non mi ha diciamo colpito questo qui così così dolce bagnetto questo diciamo che è buono ma non mi ispira neanche questo cioè non lo compro questo sicuro li sto bocciando tutti questi campioncini questo idem non mi ispira cioè vuol dire che non mi piace tanto come prodotto anche se è un campioncino l'ho usato poco questo è proprio bocciato proprio bocciato perché mi ha causato tante cose ok che il prodotto consiste che appena lo metti su diventi tutta rossa brucia eccetera ma non è un prodotto che secondo me dovrebbe fare queste cose qua per cui questo è bocciato perché brucia troppo poi devi aspettare 90 minuti che queste cose ti vanno via io l'altra volta per sbaglio l'ho messo sulla faccia perché non ho letto bene diciamo quello dove andava messo e sinceramente il giorno dopo stavo male sono stata male poi mi è gonfiato tutta la faccia infatti non dovevo metterlo in faccia dovevo metterlo sulle gambe vabbè e diciamo che ho sbagliato quello lì sì ok ho sbagliato ma anche se poi l'altro prodotto che era un altro così l'ho messo lo stesso sulle gambe e non sulla faccia diciamo che mi ha causato questo c'è il rossore pizzicore e poi dopo aspettando 90 minuti ti passa tutto e fa effetto secondo me non è un prodotto che a me piace per un punto idem questo qua non mi ispira tanto cioè può essere buono perché allora dovrebbe avere camomilla, calendula e robe varie però neanche questo non mi ispirano tanto questi campioncini non conto se sono buoni con tipo maschere per la faccia eccetera ma non mi ispirano tanto e il bello è che ne ho usate tanti perché a pure di comprare da Carlita Shop con tutti questi campioncini alla fine neanche uno mi è piaciuto o mi è colpito di più niente questo è tutto per cui fatemi sapere come vi siete trovati voi se vi siete trovati bene su Carlita Shop se acquistate su Carlita Shop se usate i suoi prodotti o volete usarne altri io direi che i suoi prodotti sono troppo esagerati come prezzi sinceramente per cui sono passata sull'altro sito che mi trovo bene poi sono una che preferisce usare cose tipo non testate sugli animali e che sono naturali al 100% che tutte robe schifezze e robe varie per cui grazie alle altre ragazze che seguo che guardo i loro canali e che diciamo mi dicono di cambiare siti in senso l'ho scoperto tramite una ragazza che grazie a lei che l'ho scoperto adesso questi prodotti costano meno per cui diciamo che mi trovo bene su quel sito lì e non ho problemi perché arriva se non sbaglio col BRT se non mi sbaglio e non ho problemi con questo corriere perché non ci prova con me ovviamente invece acquistando tutte le volte su Carlita Shop c'è questo corriere che a parte che ci mette due giorni da arrivare ma ok ci può stare ma non può un corriere provarci con te dicendo sei una bella ragazza eccetera sei un corriere e tu devi fare il tuo dovere cioè non è la prima volta che mi è successo e già ormai cinque volte che acquisto da lei cinque volte questi corrieri anche se sono diversi che poi il bello è che rubano anche il mio cellulare perché tutte le volte che tu fai la consegna ovviamente sei obbligato a mettere anche lì su quel fatto lì di essere obbligato a mettere il cellulare perché non trovano la via sinceramente è una cosa assurda perché il corriere poi mi ruba il cellulare mi manda un messaggio su whatsapp ho scritto scusa sono il corriere volevo sapere se sei rifidanzata perché mi piaci sei una bella ragazza c'è ma adesso non mi ricordo ma credo che l'avevo fatto un video dove l'avevo fatto vedere questo messaggio di questo corriere però non si può fare questa cosa qua cioè il bello che ho anche abbiato Carlita di quello che è successo sul corriere ma vedo che la maggior parte quando parli con lei è come se vivi in un altro mondo ma non peraltro ma se c'è una tua fan una tua diciamo amica ragazza che vuole un consiglio oppure che ti sta dicendo va che c'è questa cosa qua o questi problemi sul tuo sito eccetera i clienti li devi soddisfare per cui parla con loro non è che solo perché pensi di essere famosa più di tanto allora non puoi parlare con loro perché dici eh ho tante persone che mi scrivono ma cioè può essere anche così ma tu devi scrivere alle persone cioè io dico tu però dico che non credo che Carlita guarda i miei video comunque dico che lei deve vedere i commenti più giusti non commenti di cagate sei bellissima eccetera ma grazie anch'io posso dire così per vantarmi per essere cioè tutti siamo belli primo per cui non devi andare su quei commenti lì tu devi andare cioè io dico sempre tu non so perché lei deve andare sui commenti come ad esempio ho un problema sul tuo sito di Carlita Shop puoi risolvermelo è già la seconda volta che io ho scritto sotto il suo video anche su tramite privato eccetera cioè proprio cagare zero cioè hai un sito hai un coso dove tu devi fare il tuo dovere se è una una responsabile prendi risolvi questi problemi dei corrieri dei io ho avuto questi problemi anche su sui gioielli l'altra volta quando è stato prima di dicembre nel 2019 prima di dicembre ho comprato altri suoi gioielli l'unici gioielli che si rompono che a me si rompono sono le collane ho comprato due collane ho speso più di 80 euro per due collane e alla fine mi si sono rotte neanche dopo un mese per farvi rendere conto per cui questa cosa qua sinceramente non ce la faccio più andare avanti a dirgli va che ho questo problema va che mi si è rotta ancora cioè sono troppo sottili quei gioielli lì cioè a me piacciono i suoi anelli gli orecchini mi trovo bene quello è sicuro non posso dire niente ma avendo questi problemi su questo sito alla fine io non non sto tanto acquistando sul suo sito se mai acquisterò quando davvero c'è qualche promozione qualcosa che mi ispira dico vabbè questo prodotto mi ispira di più ok lo compro perché su altri siti non li trovo per farvi capire però la maggior parte è da un bel po' che io non acquisto dal suo sito ormai sono passati quattro mesi anche di più per cui per farvi rendere conto ho avuto questi problemi e anche parlando con lei che neanche ti caga essendo la responsabile del sito secondo me non è una cosa bella da fare dovrebbe essere concentrata su questa cosa qua prima io dico queste cose perché dico la verità io mi sono trovata così non ha risolto il problema e va avanti ancora non ha risolverlo e non è che posso stare sempre dietro a lei e dirgli va che si è rotta la collana di nuovo va che il corriere ci prova con me se per caso puoi cambiare e non metterli non dargli il numero di telefono oppure chiedergli di metterla di andare avanti a provarci con me tante cose che secondo me dovrebbe migliorare solo questo dico per cui questo è quello che penso non so perché sono finita su questo discorso ma faccio questo video perché poi voglio concludere e finire qua perché molte persone mi dicono fai altri video dove acquisti su Carlita Shop perché mi piace quello che faccio ma non posso fare un video per youtube solo per youtube dato che io non mi sto trovando bene questo voglio dire per cui non vedete di sicuro video per il momento su Carlita Shop poi se risolveranno i miei problemi allora se ne può parlare detto questo credo che questo video è durato anche fin troppo smetto di parlare scusate se ho detto la mia ma dovevo dirlo così almeno chiariamo questa cosa e non faccio più video di Carlita Shop questo è sicuro perché fino a quando non trovo qualche prodotto che mi ispira forse mi acquistano altri altri siti che su quello detto questo noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando seguitemi su instagram se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivate la campanellina non so perché faccio così scrivetemi cosa ne pensate anche voi su questo sito se l'avete ovviamente provato parlo delle ragazze di più che mi seguono sempre su per questi video e un bel mi piace noi ci vediamo al prossimo video perché non so quanto è durato sto video per cui ci vediamo al prossimo video ah fatemi sapere se volete altri questi video di carlita shop fatemelo sapere se vi interessa se non so fatemelo sapere che io sono curiosa di sapere se vi interessa questi video di carlita shop oppure no perché devo ripetere sempre le stesse cose non lo so ci vediamo al prossimo video ciao ciao